Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi esploreremo il mondo affascinante dei collezionisti italiani di oggetti di lusso. Abbiamo selezionato i primi dieci collezionisti, ognuno con una passione unica e una collezione che incanta per la sua esclusività. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo del lusso e della collezionismo. Iniziamo con il collezionista numero uno, Paolo Conti, un collezionista di opere d'arte italiane. Paolo ha una collezione di 30 dipinti di artisti italiani rinomati come Leonardo da Vinci, Michelangelo e Caravaggio. Il valore approssimativo della sua collezione si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Avanzando nella lista, incontriamo Giovanni Russo, appassionato di automobili d'epoca. Giovanni ha una collezione di 20 auto classificate come pezzi unici e rare. Le auto nella sua collezione includono modelli come la Ferrari Testa Rossa e la Lamborghini Countach. Il valore approssimativo della sua collezione si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Al terzo posto troviamo Francesca Marino, una collezionista di gioielli pregiati. Francesca ha una collezione di oltre 200 pezzi, che includono anelli, collane, braccialetti e orecchini di lusso. La valutazione approssimativa della sua collezione è di oltre 1 milione di euro. Proseguendo, abbiamo Martina Romano, una collezionista di oggetti di design italiano. Martina ha una collezione di mobili e oggetti d'arredamento di design, tra cui pezzi di maestri come Gioponti e Ettore Sozzas. La valutazione approssimativa della sua collezione supera i 700 mila euro. Andando avanti, incontriamo Giorgio Ferrari, un collezionista di vini pregiati. Giorgio ha una collezione di 500 bottiglie di vini selezionati, tra cui alcune annate rare e costose. Il valore approssimativo della sua collezione è di circa 500 mila euro. Passando al sesto posto troviamo Marco Rossi, un italiano appassionato di orologi di lusso. Marco ha una collezione composta da incredibili 100 orologi di alta gamma. Il valore approssimativo della sua collezione si aggira intorno ai 500 mila euro. Proseguendo, abbiamo Sofia Ricci, una collezionista di abbigliamento vintage di alta moda. Sofia ha una collezione di oltre 300 abiti vintage di designer come Valentino, Versace e Yves Saint Laurent. La stima del valore della sua collezione supera i 400 mila euro. Passiamo ora al collezionista, Laura Bianchi, una donna che ha un debole per le borse di marca. Laura ha una collezione di oltre 50 borse di lusso, tra cui alcuni modelli iconici come la Birkin di Hermès e la Classic Flap di Chanel. La stima del valore della sua collezione si aggira intorno ai 300 mila euro. Salendo nella lista, incontriamo Luca Morelli, un collezionista di pregiate bottiglie di whisky. Luca ha una collezione di oltre 100 bottiglie provenienti da distillerie prestigiose. La valutazione approssimativa della sua collezione si aggira intorno ai 200 mila euro. Infine, al decimo posto troviamo Alessandro Rossi, un collezionista di modellini di auto da corsa. Alessandro ha una collezione di 500 modellini di auto da corsa rari e di pregio. La valutazione approssimativa della sua collezione si aggira intorno ai 100 mila euro. E con questo, abbiamo esplorato le incredibili collezioni di 10 influenti collezionisti italiani di oggetti di lusso. Ognuno di loro contribuisce in modo unico al patrimonio culturale e artistico italiano. Grazie per essere stati con noi. Se avete apprezzato il video, non dimenticate di lasciare un like e condividere i vostri pensieri nei commenti. Ci vediamo al prossimo video!